Sì, siamo arrivati alla 31esima edizione e anche quest'anno abbiamo avuto dalla parte nostra è il clima che ci sta aiutando molto a questa ulteriore attività come eventi promossi dalla Proloco. Numerose le Proloco che sono qui presenti? Sì, anche quest'anno hanno dato la loro conferma, partecipazione, ne abbiamo inserita una nuova per quanto ci riguarda Ciliano, tra virgolette la novità, non è proprio dietro casa nostra però il fatto che abbia partecipato ci rende veramente molto felici. Non soltanto le Proloco con i loro piatti tipici, però anche produttori lungo i portici e oggi anche musica. Sì, esatto, insomma, quindi sotto i portici come ci hai appena chiesto, insomma ci sarà la presenza di tanti produttori di eccellenze locali e quindi insomma proprio nel rispetto della sagra del Torcetto e dei suoi dolci. Alle 16.30 avremo questo gruppo che ci intratterrà con delle piacevoli musiche utilizzando questo strumento altrettanto caloroso. Oggi qui anche una comitiva cinese? Sì, è vero, tra le varie novità anche su questo siamo veramente soddisfatti. Abbiamo una delegazione cinese con la sua presenza del presidente Gu che sta facendo un ottimissimo lavoro di inserimento e di aggregazione dei cinesi che già sono presenti nel nostro territorio. È una presenza come questa di oggi, un'attività come questa della sagra più che insomma straordinarietà nell'averli insieme e facendogli assaggiare praticamente i nostri piatti, quindi avvicinando le nostre culture, quelle che sono le nostre idee insomma e quindi per questo è un passo secondo noi molto importante per le famiglie. I prossimi eventi in programma della Prologa? I prossimi eventi saranno gelato con autore insomma, quindi saranno quattro date, quattro venerdì nel mese di giugno e vi attendiamo veramente numerosi perché saranno quattro appuntamenti importanti in questa piacevole piazza Castello sotto a questa cornice meravigliosa del Belvedere insomma al numero tre dove abbiamo appunto l'agenzia turistica della Prologa. Un evento quindi che resiste, quello della sagra del torcetto e che proseguirà anche in futuro. Sì, io mi auguro insomma anche come tale di essere presente per le altre almeno 30 edizioni prossime che arriveranno, di sicuro insomma con altrettanta voglio dire insomma entusiasmo. Sì, io mi auguro insomma. 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 Sì, io mi auguro insomma.